Siamo nel Museo di Storia Naturale della Maremma, l'unico museo di storia naturale della provincia di Grosseto e quindi della rete museale della Maremma. Il percorso di visita del museo rappresenta la biodiversità e la geodiversità della provincia di Grosseto. Ci troviamo adesso nel settore delle scienze della Terra, dove sono esposti minerali, rocce e fossili. L'altra parte del museo rappresenta le scienze della vita, divise per ecosistemi. Quando il museo è stato trasferito dalla sede precedente a quella attuale, con lunghi anni di lavoro, si è deciso di ripensare completamente l'esposizione. Quindi ciò che il visitatore trova oggi in museo in realtà non sono le classiche vetrine con ripiani e oggetti esposti, ma una contestualizzazione di questi oggetti all'interno di vetrine moderne, pannelli e soprattutto diorami, quindi ricostruzioni ambientali tridimensionali e anche delle vetrine che sono di micro diorami, ovvero degli spazi molto curati da un punto di vista anche scenografico all'interno dei quali si possono trovare le principali specie animali e vegetali che popolano quel determinato habitat o quella determinata area. Ci troviamo nella sala dell'acqua, che va dal mare alle coste, sabbiose e rocciose, alle aree umide costiere, che caratterizzano la maremma, lagune, laghi costieri, paludi, uno scrigno di biodiversità estremamente importante e tra gli ecosistemi più a rischio del pianeta. Visitando il museo è possibile visionare multimediali, attivare dei suoni di soprattutto uccelli e anche altri animali che in qualche modo animano le vetrine e creare una sorta di paesaggio sonoro intorno a noi. È possibile attraversare fisicamente ad esempio una grotta esserne al centro come se fosse una reale grotta e quindi avere un modo di visitare il museo che scuote molto la parte anche emotiva e rende partecipi di una sorta di viaggio che va sostanzialmente dal mondo dei minerali, rocce e fossili fino a un percorso ideale che parte dal mare, passa per la costa, le colline, le aree submontane e poi montane fino all'amiata per poi attraversare appunto una grotta e tornare verso il mare. Quindi è una specie di viaggio nella natura e anche nella storia naturale della maremma. Questo è lo scheletro del famoso ominide di Baccinello o Sandrone come lo chiamavano i minatori, uno scheletro intero di oroepiteco trovato in miniera a 200 metri di profondità alla fine degli anni 50. L'oreepiteco è il simbolo del nostro museo. È una scimmia antropomorfa vissuta in Maremma e in parte della Sardegna che allora costituivano un'unica isola nel miocene appunto tra 10 milioni e 6 milioni di anni fa. Per un certo periodo è stato creduto che l'oreepiteco fosse l'anello di congiunzione tra l'uomo e le scimmie. Oggi sappiamo che così non è ma è comunque una specie estremamente interessante perché ha sviluppato in modo indipendente molto prima dei nostri progenitori una serie di adattamenti evolutivi che l'uomo avrebbe scoperto molto più tardi. Questo, come molti altri musei di storia naturale, anche ben più importanti, penso a Londra, penso a Parigi, penso a Berlino, in realtà sono nati proprio dalla attiva partecipazione, dalla passione di persone che hanno iniziato a raccogliere queste collezioni che poi in qualche caso hanno donato al museo e hanno contribuito anche al loro arricchimento nel corso del tempo. Il museo nasce dall'attività di un gruppo di amici che a partire dagli anni 50 ha iniziato a esplorare la Maremma, una terra molto varia con una biodiversità enorme che va dal mare fino al Montamiata. Questo gruppo di amici, sostanzialmente appassionati, alcuni di loro erano docenti di scuola superiore, hanno iniziato a raccogliere campioni e così hanno messo su delle piccole collezioni che mano a mano nel tempo si sono andate arricchendo. Tra queste persone c'era anche Giuseppe Guerrini, che è stato il fondatore e il primo direttore di questo museo. Questo crea un po' la base di un rapporto stretto tra i musei di storia naturale e gli appassionati naturalisti che oggigiorno si è trasformato in qualcosa che ha assunto il termine più moderno di citizen science e costituisce un po' un fattore importante di coinvolgimento del pubblico, una sorta di interfaccia tra scienza e partecipazione del pubblico e società. Quindi il pubblico del museo diventa non soltanto la persona che viene a visitare il museo e in qualche modo apprezza i contenuti di ciò che viene presentato, ma può contribuire gli stessi, sia fornendo informazioni e campioni in qualche caso, ma anche partecipando alle attività di citizen science che si svolgono nella maggior parte dei casi all'aperto. Quindi per citizen science si intende la scienza partecipata o scienza condivisa, in realtà non c'è una vera e propria traduzione in italiano, quindi si usa comunque il termine citizen science. Ed è la partecipazione del pubblico nella raccolta di dati e nella produzione di nuove conoscenze scientifiche. Il museo è uno dei fondatori dell'Associazione Europea di Citizen Science, che negli anni ha sviluppato i 10 principi di citizen science, che vedete qui riprodotti, tradotti in 27 lingue diverse, che costituiscono gli elementi fondamentali da seguire per sviluppare la scienza dei cittadini. Questo è un modo per, da una parte, svincolare dal concetto di museo come luogo statico, polveroso, e al tempo stesso per coinvolgere maggiormente le persone. Il museo non è solo collezioni espositive, quelle che si possono vedere nelle vetrine, nei diorami, ma una delle funzioni principali di un museo è la conservazione e lo studio delle collezioni storiche e recenti. Un patrimonio incredibile che costituisce la ricchezza vera di un museo di storia naturale. Disporre di collezioni di studio è fondamentale per avere delle serie storiche e per approfondire ricerche e studi sulla biodiversità e sulla geodiversità di un territorio. Per questo i musei di storia naturale costituiscono un elemento importantissimo di conservazione e di ricerca scientifica. Nella produzione di ricerca il museo pubblica regolarmente articoli scientifici in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, altri musei, università. All'interno di questo contesto sono frequenti gli scambi di informazione, conoscenze e collaborazioni con altre realtà europee. I risultati delle ricerche sono primariamente delle pubblicazioni scientifiche, spesso lingua inglese, che vengono poi lette in tutto il mondo. Ma in alcuni casi, laddove i dati raccolti e soprattutto gli oggetti raccolti costituiscono un elemento importante di conoscenza, è possibile anche organizzare delle mostre. Il museo ne ha organizzato una importante nel 2015 sui reperti archeologici e paleontologici di oggetti vecchi e nel tempo mi auguro che questo sia possibile numerose altre volte, quindi che sia un modo per rinnovare anche le collezioni museali e renderle visibili al grande pubblico. L'inaugurazione del museo alla fine del 2009 è avvenuta con un testimonial di eccezione, Piero Angela. È noto a tutti come un grandissimo divulgatore scientifico e questo dà un po' anche l'impronta delle attività del museo, divulgare la scienza, essere un luogo dove si contribuisce alla crescita dei cittadini e si forniscono opportunità per approfondire conoscenze e in qualche modo si cerca di riempire un po' il vuoto di conoscenza scientifica che abbiamo nel nostro paese, molto spesso estremamente rivolto verso gli aspetti più artistici, archeologici, storici, un po' meno verso quelli legati al mondo della scienza. Anche per questo sin dall'inizio, al primo anno di attività, il 2010, il museo si è contraddistinto per un calendario di eventi che coprono tutto l'anno solare, da gennaio fino a dicembre. Nel corso dei primi dieci anni di attività del museo sono stati organizzati circa 250 eventi diversi. Quindi si va dal Darwin Day, che è un evento di approfondimento sull'evoluzione dedicato appunto a Charles Darwin in corrispondenza più o meno della data della sua nascita, fino a eventi formativi, quindi corsi, incontri di citizen science, eventi all'aperto, caffè della scienza e una serie di altre iniziative volte a migliorare la conoscenza scientifica e a portare in città e in museo alcuni dei massimi esponenti sui singoli temi che poi abbiamo trattato nel corso del tempo. Tutto questo porta a una produzione culturale e scientifica che fidelizza le persone e che quindi allarga un po' il contesto laddove il museo, come è successo nel 2020, si espande anche sul web. Quindi molte delle attività che erano in programma sono state trasformate in eventi online. Trovati in questa nuova veste stiamo testando delle nuove possibilità di utilizzo delle sale virtuali di Facebook per fare dei webinar. Quindi il museo che è in streaming sui social network, sul proprio sito, continua a fare cultura non solo per i locali ma anche per coloro che vogliono seguire le nostre attività. E questo ha portato ad esempio in un caso, quando nel marzo del 2020 abbiamo organizzato un virtual bioblitz, ovvero un bioblitz virtuale dove tutti potevamo partecipare da casa inviando le proprie foto di animali e di piante in collaborazione con l'Università di Firenze e con un'associazione che si chiama Successione Ecologica. E' avuto un successo incredibile, abbiamo avuto in poche ore oltre 3.000 foto inviate da persone che non solo mandavano le proprie immagini scattate in vari luoghi del nostro paese ma anche scattate durante le loro vacanze. Quindi abbiamo avuto alla fine una quantità enorme di immagini che arrivavano da tutti i continenti e questo in pochissimo tempo per dare l'idea come è possibile coinvolgere l'interesse e muovere una quantità enorme di informazioni.